Gentili telespettatori, buona giornata. È Elena Schlein, la regina dei telegiornali RAI. Che cavolo stai dicendo, Willis? Eh sì, lei e il PD regnano sovrani nei telegiornali della RAI. Ma cosa dici? Telemeloni? Telemeloni? Avete rotto? Beh come? Telemeloni? Ma cosa dici? Ma cosa inventi? Ma cosa stai dicendo? La Schlein ha fatto pure il sit-in sotto la RAI col microfono. Telemeloni! Ma com'è possibile che la sinistra parli di telemeloni quando i dati ufficiali, cronometrati, parlano del regno assoluto di PD? e Schlein, che sono primi in tutti e tre i telegiornali. E allora? La Gcom fa un monitoraggio mensile. Nelle tabelle relative al pluralismo politico istituzionale in televisione, prendiamo ad esempio l'ultimo mese, febbraio, febbraio 2024, nel pieno del famoso telegiorgi, telemeloni, telecanto, telefratelli d'Italia, telecentrodestra. Allora, andiamo a vedere Telemeloni. Telemeloni sembra proprio Tele-Elena. Te-Tele-Elena. Oppure Tele-Schlein. Tele-Elli. Ellitele. Va bene. Il PD ha avuto il 10... Cominciamo con i partiti e poi vediamo i politici. Il PD ha avuto il 10,7% complessivo nelle varie edizioni del TG1, TG2, TG3 e Rai News 24. 10,7% il PD. Fratelli d'Italia ha avuto solo il 10,2%, quindi mezzo punto percentuale meno. Ma non era Telemeloni. Andiamo avanti. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle con il 9,4%, quindi i 5 Stelle con il loro 16% hanno avuto praticamente quasi come Fratelli d'Italia partito da 30%. Va bene. Poi segue la Lega con il 6,2% e Forza Italia con il 5,3%. Quindi nei telegiornali TG1, TG2, TG3 e Rai News il primo partito è il Partito Democratico, 10,7%. Nel dettaglio il PD nel TG3 ha il 15%, il 14% al TG1. TG1 è considerato il telegiornale meloniano per eccellenza. Invece Fratelli d'Italia ha circa un punto percentuale in meno di tempo su questi record del Partito Democratico. Andiamo a vedere i leader politici. Eh, qua ci sarà la Meloni che spadroniggia in tutte le reti, praticamente conduce anche i telegiornali lei in prima persona, vero? Ma andiamo a vedere se la Meloni conduce anche i telegiornali. I primi 20 soggetti politici e istituzionali nei telegiornali. Schlein è in testa per tempo di parola, ossia nelle dichiarazioni dirette, non riportate nei servizi, per esempio. A febbraio la capa Schlein ha avuto il 10,8% al TG1. Eh, la Meloni avrà avuto l'80%. Eh no, la Meloni ha avuto l'8%. Ma come? Ma te le Meloni? Te le Meloni avete rotto i... Allora, Schlein il 10,8% e Meloni l'8%, conte il 6%, ma Mattarella il 5,1%. Così la grande capa del Partito Democratico che grida all'occupazione meloniana della Rai, vi ricordate che aveva fatto il sit-in in Viale Mazzini mentre la Rai era a Sanremo, no? Geniale! Il sit-in in Viale Mazzini è prima per tempo di parola anche al TG3, però al TG2 è solo seconda. Seconda, ecco, la Schlein perde solo al TG2 che arriva a seconda. Caspiterine, avete visto che allora è Tele Meloni, se la Schlein mi arriva a seconda al TG2 e spadroneggia in tutte le altre edizioni, possiamo parlare di Tele Meloni? Tele, Meloni, hai rotto i... Eh, possiamo dire così? E quindi Tele Meloni non esiste, o meglio, come dice la legge fatta dal PD nel 2015, quando c'era Renzi, il governo che arriva ha diritto e dovere di mettere le proprie persone in Rai. Bene, quindi il governo Meloni ha messo le proprie persone in Rai, come dice la legge italiana, non la dittatura, la legge italiana. Quindi parte Tele Meloni, perché ogni governo assume il controllo della televisione di Stato per farla diventare praticamente un mezzo di propaganda, questo è la famosa Tele Meloni che sentiamo da quasi due anni, Tele Meloni, ci rendiamo conto che Tele Meloni in realtà non esiste. Il TG1 Georgia non esiste, il TG2 Georgia non esiste, il TG3 Georgia non esiste, Rai News Georgia Meloni non esiste. Perché la Schlein e il PD vince facile, no? Gli piace vincere facile. Ecco, il PD vince facile in Rai. Possibile che il Partito Democratico non abbia visto questi dati? Forse li ha visti, ma era più comodo parlare di Tele Meloni perché tanto al popolino gli racconti quello che vuole, loro ti credono, no? Tu all'elettorato, digli che c'è Tele Meloni anche se non è vero, no? Digli che c'è il fascismo anche se non è vero. Digli che c'è il regime che comandano la polizia per manganellare e reprimere il dissenso. Ecco, avete capito? Una sinistra che dice che c'è un regime fascista che reprime il consenso tramite i manganelli e che si impossessa delle televisioni facendola diventare Tele Regime Meloni. La realtà qual è? Che Tele Regime Meloni non esiste. La polizia non è agli ordini della Meloni ma sono stati aggrediti a calci e sputi e si è tentato di sfondare i posti di blocco per questo che hanno reagito. C'è assolutamente democrazia in Italia, non c'è nessun regime. Capite che il racconto sinistro e inquietante di quest'area politica fa accapponare la pelle. Qual è l'area politica, chiedo a voi, dove c'è poca democrazia, dove non conoscono le basi della democrazia? Lo lascio scrivere a voi nei commenti. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.